ancora uno scivolone istituzionale da parte della giunta fugatti perché mentre l'università di trento viene lasciata a stecchino con il bilancio fermo agli trasferimenti del 2011 nonostante le spese siano cresciute soprattutto che durante gli ultimi due anni ci sia messo anche lo zampino di inflazione che a dire della provincia non ci sono abbastanza soldi la stessa provincia trova invece altri 800 mila euro per fare un concerto di un artista di musica rock nell'area della trentino musica arena quando bene o male spendendo 800 mila euro che vanno ad aggiungersi agli altri 8 milioni spesi poco tempo fa per l'evento di vasco rossi pane micercense al popolo si potrebbe dire ma soprattutto ancora una volta l'incapacità al governo viene dimostrata in tutta la sua potenza ne parliamo in questa puntata di focus trentino prima però vi ricordo di mettere il mi piace e condividere contenuti con i vostri amici a tra poco dopo la sigla cari amici vicini e lontani bentornati alla nuova puntata di focus trentino da parte di stefano elena nei giorni scorsi la provincia ha pianto lacrime da coccodrillo perché diceva che non c'è non ci sono abbastanza risorse a bilancio per soddisfare le esigenze dell'università che chiede una integrazione consistente e soprattutto stabile del trasferimento finanziario che la provincia di trento assicura all'università perché con seguito le norme di attuazione la università di trento è finanziata direttamente dal bilancio dell'autonomia provinciale ebbene il bilancio della dell'università è fermo ai trasferimenti del 2011 pare a cento e undici milioni di euro quando meno male in questi ultimi decennio l'università è cresciuta sia in competenze sia anche per le spese di funzionamento compice soprattutto nell'ultimo biennio anche le spese affrontate per gestire la pandemia ma soprattutto per la via dell'inflazione che è pesata notevolmente anche sui conti dell'università con il risultato che quest'anno per il bilancio 2022 si dovrà fare un ulteriore rosso che andrà aggiungersi a quello dell'anno scorso e questo comporterà un'erosione del patrimonio stesso dell'università questo perché la provincia di trento dice di non avere sufficienti fondi a bilancio anzi ha ribaltato la patata bollente sulle stesse università che dovrebbe gestire meglio il proprio bilancio e essere più efficiente da che pulpito viene la predica si potrebbe dire però negli stessi giorni emerge il fatto che la provincia non paga ad aver sprecato 8 milioni di euro per l'approntamento dell'area dell'ex san vincento per creare la fantasmagorica trentino music arena per ospitare il concerto di vasco rossi promesso in lungo in largo a urbi e torbi si potrebbe dire dal presidente uscente della provincia di trento maurizio fugati per cercare di blandire il consenso il voto da parte di rocchettari come lui che sono nostalgici del periodo di vasco rossi nonostante che lo stesso rossi sia ormai un esponente della musica avviato sul viale del tramonto complice anche l'età la giovane età che ha lo stesso ebbene in questi giorni viene fuori la notizia per cui la provincia di trento sovvenziona con la bellezza di 800 mila euro il concerto di mister reina ha sempre nell'ambito della trentino music arena e mettendo praticamente i biglietti per il pubblico che vorrà andare a sentire questo artista a 5 euro invece dei consueti 40 50 euro che sarebbe il prezzo di mercato ebbene se i soldi non ci sono non dovrebbero esserci nemmeno per queste quisquiglie musicali per queste passatempi di che servono semplicemente per vellicare i bassi istinti dell'elettorato soprattutto di quelli più giovani dove fugati e la sua squadra scombinata cerca di trovare un consenso che sta evaporando sempre di più ma soprattutto bisognerebbe capire quale sentimento di autonomia quale sensazione di priorità nella gestione del denaro pubblico e dei servizi alla giunta fugati che per bontà degli elettori probabilmente ha un destino segnato ancora un mesetto o poco più di vita in attesa delle elezioni del 22 ottobre prossimo ebbene di fronte a tantissime realtà come l'università ma soprattutto come la sanità trentina ma anche quella dei servizi pubblici e soprattutto per quelli dell'anzianità delle case di riposo che lamentano l'esplosione di costi da sostenere complice sempre l'inflazione ma soprattutto anche i maggiori oneri derivanti dalle mutate esigenze della società si dice che non ci sono soldi ebbene non dovrebbero esserci soldi nemmeno per attività che sono tutt'altro che prioritarie per una società trentina nota bene una cosa che sotto la gestione fugati e anche un pelino quella rossi della legislatura precedente l'economia del trentino è andata semplicemente calando se non addirittura rotoli tant'è vero che il bilancio dell'autonomia speciale che viene alimentato dal 90 per cento del gettito fiscale riscosso sul territorio ha allargato sempre più la forbice esistente col vicino alto adige che gode della stessa autonomia del trentino forse qualcosina in più ma più o meno è simile ebbene a fronte di un bilancio di cui arno compaccia il presidente dell'alto adige è andato legittimamente orgoglioso e ce ne ha e ne ha ben donde per cui nel 2023 l'alto adige avrà a disposizione 7,64 miliardi pari a un pil pro capite di 49.900 euro per ogni alto tesino il trentino invece deve accontentarsi di un bilancio di 4,62 miliardi di euro con un pil che sa da pro capite che si aggira intorno ai 29.000 euro scarsi ebbene 3 miliardi in meno 3 miliardi in meno derivanti dall'incapacità gestionale dall'incapacità programmatore dall'incapacità di avere una visione di sviluppo dell'economia del territorio locale già solo questo risultato dovrebbe costituire una specie di requiem per le ambizioni di una riconferma di una giunta di un governo di una maggioranza a guida leghista che ha dimostrato tutti i suoi limiti non tanto concettuali ma soprattutto personali incapacità personale di personaggi che si sono inventati dalla sera alla mattina assessori senza mai aver avuto la minima esperienza di gestione di aziende di attività e soprattutto di gestione della politica segretari baristi e simili improvvisati che sono diventati responsabili di fasce importantissime di bilancio pensiamo semplicemente alla sanità che assorbe solo essa circa oltre un terzo del bilancio provinciale ecco averci personaggi che sono improvvisati e soprattutto personalmente incapaci e inadeguati al ruolo da riscoprire danno risultati che sono ormai sotto gli occhi di tutti e soprattutto sotto gli occhi degli elettori che il prossimo 22 ottobre dovranno dare il bilancio di questa leggellatura che ha più secondo i più è fallimentare e da questo punto di vista è auspicabile che i cittadini cerchino di dare una sterzata per poter rilanciare un'autonomia e soprattutto una capacità di autogoverno cambiando uomini mettendo personaggi che abbiano un'esperienza che abbiano un trascorso di capacità di programmazione e soprattutto anche di strategicità perché senza strategie senza capacità di visione senza uno scenario di riferimento a medio e lungo termine che non sia quello della punta del proprio naso il trentino è destinato ovviamente a scavare ancora di più il fosso che lo separa dall'alto adige avvicinandosi sempre di più a quella di una provincia ordinaria priva di soldi priva di competenze e soprattutto priva di mezzi e i risultati li stiamo già vedendo ogni giorno che passa per fortuna ancora per poco cari amici vicini e lontani questa puntata di focus torrentino termina qua prima di salutare vi ricordo di mettere il mi piace di condividere i contenuti con i vostri amici da parte di stefano elena un saluto e un arrivederci alla prossima puntata se vorrete ciao